Eccolo. Oh Marco, hai trovato il serpente? No, è un salto ragazzino. Fammo via ragazzi. Guardatemi, abbiamo trovato un serpente, ce l'abbiamo in giro per casa. Due secondi e lo troviamo. Per essere, abbiamo vinto la casa, ma adesso abbiamo fatto un brivido proprio. Lì Marco, qui, qui, qui. Eccolo. Ed è arrivato. Ma un po' vedete, hai trovato. Aspetta, scazzo, schifo di via. Si aspetta, vai via, no. È stato da tu cazzo, ma non ci gioco. È stato dall'altra parte, lo ha vedete dall'altra parte. Tu sai? Ora un po' si sta lì. Sta lì, va? Vedele, 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 vedele. Alla pieti. Vedele, vedele, vedele. Non mi va a reggerlo. Ma dove sta? Tu? Come vi dico? Io? Eccolo, lo spero. Elelelelele. Mamma mia, ma te cazzo è grosso. Ele Marco, elelele. Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa.